ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di contatori del tempo un episodio dedicato alla pulizia la pulizia ho detto pulizia non polizia non spaventatevi voi a caso che avete qualcosa da nascondere no semplicemente la pulizia dell'orologio perché perché in tanti mi avete chiesto come fare a fare la pulizia come se fosse una cosa così impossibile e la lubrificazione in particolare perché ho accennato quest'estate quando utilizzavo gli orologi sulla spiaggia che avevo un lubrificante da mettere sulla ghiera o nella chiusura micrometrica della clasp no e quindi ho suscitato la curiosità di qualcuno e quindi colgo l'occasione per fare un video unico nel quale spiego il mio metodo di pulizia dell'orologio un diver e di lubrificazione ok ho scelto loris diver 65 che è acciaio e bronzo non vado a toccare bronzo non è mia intenzione pulirlo dalla patina del bronzo mi piace così anche se poi durante il processo probabilmente cambierà perché un pochino viene pulito anche se non utilizzi strumenti specifici per rimuovere la patina si schiarisce no utilizzerò il diver 65 perché quello che ne ha più bisogno ho visto che la clasp dentro abbastanza sporchina tutto il resto è un po sporchino quindi è quello che si adatta maggiormente a questo video a mostrarvi come avviene la pulizia dell'orologio dicevo lubrificante anche perché sono stato contattato dalla precise technology sa esattamente ad inizio estate mi hanno inviato due boccette di questo clock lube dicendomi se avevo intenzione di testarli lungo l'estate e io l'ho fatto l'ho fatto però prima di portarlo sul canale io mi devo sempre accertare che sia un'azienda seria cos'è che mi ha fatto schioccare la scintilla è il fatto che è il lubrificante che viene utilizzato da orologi calamai dai suoi tecnici per lubrificare i meccanismi i calibri durante l'assemblaggio e tutto il resto quindi se ritengono loro che è un buon prodotto per i calibri perché non dovrebbero essere per le parti esterne perché voglio ricordare che questo prodotto clock lube nasce per i calibri poi solo in un secondo momento si può adattare alla lubrificazione della ghiera del bracciale delle parti esterne la precise technology è un'azienda svizzera che lavora in molti settori componentistica auto extra lusso orologeria ed orificeria la sezione ricerca sviluppo si occupa anche dell'interazione tra le varie componenti meccaniche ed hanno sviluppato un brevetto per realizzare quest'olio sintetico ad alte prestazioni mi hanno quindi mandato un paio di boccette di quest'olio per poterlo testare durante l'estate in quanto può essere adatto anche alla normale manutenzione esterna dell'orologio dunque ho testato il clock lube per tutta l'estate utilizzandolo su differenti orologi per lubrificare le parti esterne dopo una giornata al mare e devo dire che la scorrevolezza delle parti esterne è migliorata solitamente è sconsigliabile lubrificare una ghiera e poi riportarla subito al mare il giorno dopo perché perché l'olio si può impastare con la sabbia con la polvere con il salmastro e creare un impasto che va a peggiorare la situazione nel mio caso invece ha funzionato egregiamente io li lubrificavo poi li riportavo al mare e non mi ha dato alcun problema probabilmente perché si tratta di un olio a particelle micronizzate e polarizzate di ptfe in pratica delle sfere nanometriche che fungono quasi da cuscinetti a sfera ma passiamo alla mia personale procedura per la pulizia dell'orologio perché in primis funziona come una cosa esattamente normale come fanno tutti il primo passaggio è quello di mettere l'orologio nel lavandino si nel lavandino lavarlo sotto un'acqua tiepida attenzione controllare sempre che la corona sia in posizione chiusa acqua tiepida e sapore neutro quello per le mani va benissimo si friziona leggermente con le dita cercando di sgrassarlo il più possibile e si passa poi alla fase di risciacquo non abbiate timore a metterlo sotto il getto diretto non succede nulla sempre che l'orologio abbia mantenuto le sue caratteristiche di impermeabilità originarie in seconda battuta si passa allo smontaggio del bracciale io utilizzo un attrezzo bergheon ma vanno benissimo anche quelli economici comprati qua e là si smonta prima la barra molle della scatoletta e la si mette da parte si continua poi smontando il bracciale dalla testa agendo sulle due spring bars dei finali vi consiglio di metterle in una bustina in modo da non confondersi con quella data alla chiusura anche se sono di differenti dimensioni come vedete i finali si separano dal bracciale è vero che sono identici ma io preferisco rimontarli nello stesso ordine e li terrò quindi accoppiati al relativo spezzone per tutto il percorso di lavaggio si può notare che l'interno della chiusura nonostante il lavaggio con sapone è rimasto opaco e non perfettamente pulito occorre quindi utilizzare una lavatrice ad ultrasuoni costano relativamente poco e svolgono il greggio lavoro si riempie la vaschetta con acqua calda e in questo caso potete anche cedere con la temperatura nei bracciali non vi sono parti in gomma si procede poi ad inserire un poco di detersivo sgrassante qualsiasi si mette il coperchio e si procede con il ciclo di lavaggio io procedo con cinque cicli di lavaggio ognuno dei quali dura circa cinque minuti in ogni caso basterebbe aprire il coperchio per valutare se il lavaggio è giunto a compimento vi ricordo che ogni utensile che sto utilizzando è presente nei link sotto al video nell'elenco attrezzi che utilizzo nei video terminato il lavaggio del primo spezzone si passa al secondo stesso procedimento e stessi tempi ovviamente andremo a svuotare il contenitore dall'acqua sporca per ricominciare con acqua pulita e sgrassatore in questo caso ho fatto sei cicli proprio perché è presente la scatoletta che è la parte più sporca in ogni caso basterebbe aprire e controllare ma la mia pigrizia mi impone di premere anzi il pulsantino e attendere mentre faccio altro come si vede il risultato eccellente la clasp è tornata pulita se così non fosse basta fare altri cicli fino alla pulizia completa della clasp a questo punto passo la pulizia della testa utilizzando un cotton fioc in bevuto di acqua e sgrassatore passandolo soprattutto tra le anse e sul fondello in modo da completare la pulizia superficiale vado ad utilizzare anche un comune panno in microfibra per pulire un po tutte le superfici ho lasciato indietro le spring bars avrei potuto metterle in lavatrice ma in questo caso volevo mostrarvi anche un po di pulizia manuale in modo da capire che si può fare in qualsiasi momento anche senza lavatrice e come vedete il risultato lo si ottiene a questo punto si passa alla lubrificazione utilizzando clock lube lo si fa perché la pulizia con la lavatrice ultrasuoni e poi manuale ha sicuramente asciugato tutti i punti di intersezione rendendoli secchi i fori e i perni presenti si inizia con le spring bars all'interno sono presenti delle molle ed è quindi bene fargli arrivare un po di lubrificante ricordiamoci di far agire le molle per qualche volta premendo e rilasciando si passa poi agli spezzoni del bracciale ed è bene lubrificare ogni giunzione presente anche quelle che potrebbero apparire superflue la quantità da utilizzare è minima ma io attraverso la camera faccio fatica a quantificarla e ne ho applicato un po di più meglio abbondare che deficere molto importante è la lubrificazione della scatoletta ci sono i pulsanti di apertura e le relative molle qui è bene effettuare un lavoro certosino in quanto il punto che maggiormente beneficerà di una corretta lubrificazione come visto in precedenza si lubrificano poi tutte le giunzioni compresa la cerniera interna che è quella che poi lavora con la maggiore escursione rispetto alle maglie del bracciale intendo tutta questa opera di lubrificazione rende anche il bracciale più silenzioso e laddove voi avessero un orologio che fa qualche cigolio con la lubrificazione si va ad attenuarlo se non eliminarlo del tutto come si vede sia il lavaggio che la lubrificazione hanno uniformato la patina del bronzo non è scomparsa ma sicuramente risulta meno evidente passiamo poi alla testa dell'orologio e alla lubrificazione della ghiera basta porre qualche goccia di clock lube lungo la circonferenza ed il gioco è fatto attenzione può sembrare che la fessura non assorba l'olio in realtà stiamo parlando di un prodotto alquanto volatile che si infila negli interstizi velocemente in seguito la componente finalizzata al trasporto evaporerà lasciando solamente le microsfere a fare il loro lavoro è proprio questo il motivo per cui non macchia e non unge in ultimo ho aggiunto un piccolissimo quantitativo al canotto filettato della corona senza esagerare in quanto quella è l'apertura verso l'interno è vero che c'è una o più guarnizioni ma è bene non esagerare ne guadagna la manovrabilità della corona in fase di avvitamento barra svitamento fatto tutto ciò si procede alla fase inversa ossia al montaggio del bracciale alla testa con tutti quei passaggi visti prima ma al contrario ed ecco qua un orologio pulito e lubrificato come si deve certo i segni del tempo rimangono ma questo è un orologio che utilizzo spesso e senza troppi riguardi e proprio per questo si merita una manutenzione e pulizia accurate ora quello che voglio dire io eccolo qua l'orologio in tempo reale lo vedete vedete anche che la patina del bronzo è diventata uniforme si è leggermente schiarita naturalmente tutta questa opera di pulizia e lubrificazione agisce leggermente sulla patina c'è poco da fare detto questo volevo aggiungere un'altra cosina io l'orologio del giorno è il rolex explorer da 39 mm eccolo qua nella sua bellissima configurazione con il bracciale oyster perché dico questo perché quando ho acquistato questo orologio qua era sporco la clasp interna è veramente sporca perché il mio amico simone è un vero lozzoso come si dice guarda le nostre parti quindi era veramente sporco e per fare la pulizia di questo bracciale del rolex ho smontato anche maglia per maglia cosa che non ho fatto per il loris diver 65 cioè tutte quelle maglie dove che sono state che erano rimovibili che era possibile smontare le ho smontate e le ho messe dentro la lavatrice ad ultrasuoni smontate singole ecco la pulizia in quel caso lì viene anche migliore in questo caso non l'ho fatto l'ho lasciato tutto unito anche perché sono quelli a pressione questi qua sono a vite facevo prima e in questo caso quando ho fatto la pulizia del rolex explorer non avevo ancora a disposizione clock lube quindi non ho nemmeno lubrificato alla prossima pulizia provvederò a lubrificare anche tutte le sue piccole parti interne che potrebbero abisognare comunque torniamo loris diver 65 allora pulito ne ha guadagnato di pulizia ne ha guadagnato all'interno della clasp è completamente venuto perfetto chiaramente i suoi segnettini ce l'ha sempre come dicevo perché è un orologio che ha vissuto ripeto si tratta di un procedimento personale mio personale poi ognuno scelga la propria strada sta di fatto che sia la lavatrice ad ultrasuoni che un olio lubrificante sono due condizioni secondo me ideali per fare una pulizia come si deve a me mi sembra anche di aver detto tutto ragazzi non è che c'è altro da aggiungere non mi viene in mente altro perché ne ha tutto guadagnato la ghiera adesso gira che una bellezza io vi ripeto l'ho anche puliti dopo la giornata al mare per poi tornarci al mare di problemi non è avuti di impastamento ne ha solamente giovato la lubrificazione così come sulla corona un goccino e basta non esagerate sulla corona l'avvitamento diventa fluido io vi ho fatto vedere il mio metodo di pulizia i prodotti che ho utilizzato l'amico clock lube che ci ha sponsorizzato il video e siamo tutti contenti no ogni tanto una sponsorizzazione la devo fare chiaramente clock lube ho chiesto è come se orologica la mime avesse certificato che sono buoni loro li utilizzano per fare le revisioni ai calibri interni figuriamoci un po se non vanno bene per pulire per ungere le parti esterne andranno bene ragazzi io vi ringrazio per essere arrivati fino qua e vi ricordo gli appuntamenti fissi che come sempre sono quando voglio io il più spesso possibile qui su youtube love so